Ragazzi, sapete quanti negozi di ferramenta ci sono in donna? No, no, no. Oh, sì. Questa è l'ultima. Il server ti ha fatto rifare la chiave in un altro quartiere? Abbiamo un problema. Buongiorno. Buongiorno. Sander, vorremmo avere una domanda di questa chiave. Mi occorre la scheda codificata. L'ho cercata ovunque, ma non riesco più a trovarla. Senza scheda non posso. Non si potrebbe. Io domani parto per le vacanze. Il mio amico dovrebbe entrare in casa e dare da mangiare al mio caso. Se è questione di soldi, non c'è problema. Ci ha fatto il suo nome a un nostro amico. Buongiorno. Salve, signor Bauman. Salve. Che ci fate qui, colleghi? Lavorate ancora al caso di Eft? Non si è curioso. Ehi, volevo soltanto aiutarti. E chi ha fatto la propria di questa chiave? Bauman, collabori pure per i detective della Uniti. Ehi, spiritoso nome. Andiamo fuori, tutti e due. O dici al suo collega di scusarsi subito con me, oppure io. Che cosa? Cosa? Tu mi fai la multa? Sì, e te l'appiccico proprio in mezzo agli occhi. Adesso basta, smettetela. Comprati un vocabolario e guarda che significa indagini in incognito, idiota. Ascoltatevi bene, se qualcuno indaga gli incognito dovrebbe...